Riunita a Bolzano sotto la guida della presidente del Lantag tirolese Sonia Ledrosman, la commissione interregionale cui spetta preparare i lavori del Dreyer Lantag che si svolgerà il 21 e il 22 ottobre ad Alpach, ha definito l'ordine del giorno per la seduta congiunta. Tutte e venti le proposte di mozione sono state approvate, compresa quella per una presa di posizione congiunta sulla popolazione dei lupi nelle Alpi che aveva suscitato qualche dubbio alla vigilia e che è stata modificata con emendamento. Tra le altre proposte suddivise nei macro temi turismo, salute, società, arte e cultura e di rilevanza per tutte e tre le province c'erano mozioni sulla promozione dei centri di aggregazione giovanile per una strategia di ciclo mobilità interregionale, l'ampliamento di programmi della promozione delle lingue già esistenti, la creazione di un museo del Tirolo ed una rafforzata cooperazione in particolare in ambito epidemiologico. Si tratta di temi e questioni che naturalmente si gestiscono meglio insieme e si possono naturalmente portare avanti meglio assieme piuttosto che ogni provincia per conto suo naturalmente. La prossima seduta congiunta in programma 21 e 22 ottobre ad Alpa, in Tirolo, sarà la trentesima dalla sua fondazione. Intendiamo quindi onorare questa ricorrenza che è molto importante promuovendo scelte ponderate e orientate al futuro da trasmettere poi naturalmente agli esecutivi per la loro attuazione. Come già nell'ultimo Dryer Landtag del 2019 a Merano, anche nella prossima seduta congiunta saranno trattate mozioni chiave dei presidenti Ledl Rosman, Mattei e Casvalder inserite quali primi punti all'ordine del giorno. E se riguardano tra l'altro una rielaborazione del regolamento della seduta congiunta per renderne ancora più efficiente la modalità di lavoro. Ricordo anche la grande collaborazione che abbiamo a livello dei tre presidenti sia del Tirolo che del Sud Tirolo che è anche sottoscritto. È un rapporto anche di profonda amicizia che chiaramente con questa collaborazione cerchiamo di portare avanti tutti questi progetti per uno sviluppo del nostro territorio, del nostro vecchio Tirolo. Della Commissione Interregionale fanno parte per il Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano la Presidente Rita Mattei e i consiglieri Daniel Alfreider, Sven Knoll, Gerhard Lanz, Diego Nicolini, Hans-Peter Stauffler e Carlo Vettori.